Manca una settimana per la riapertura delle scuole nella nostra regione e a Teramo la situazione degli istituti di competenza comunale al momento sotto controllo e non si registrano criticità. Una situazione evidentemente sotto controllo, di buon auspicio per l'inizio di questo nuovo anno scolastico, con estrema attenzione a quella che è la tematica Covid. Stiamo mettendo in campo tutti i protocolli necessari per riaprire in sicurezza, così come più volte ha ribadito il sindaco, continuiamo a rivolgersi a tutto il personale scolastico ed educativo affinché si sottoponga le procedure vaccinali e consenta a tutti quanti gli operatori e tutti quanti gli utenti di poter fruire del servizio nel modo più tranquillo e sicuro possibile. Il Comune però sta cercando di accelerare i tempi per la nuova scuola dell'infanzia del quartiere San Benedetto a Colleatterrato Basso, che secondo il cronoprogramma sarà messo a disposizione della dirigente scolastica prima della riapertura delle scuole. Mentre proseguono i lavori a ritmo serrato sono già iniziate le pulizie generali. I lavori mancanti verranno completati senza interferire con le lezioni, anche se ad oggi non si conosce ancora il giorno in cui gli alunni potranno entrare nella nuova scuola antisismica. Ma ad oggi ancora non è in campo alcun tipo di spostamento, è ovvio e fisiologico che così come anticipato dall'assessore vice sindaco Cavallari con il completamento finalmente della scuola di Colleatterrato, questa è una notizia evidentemente significativa e positiva per un'intera comunità, si andrà a riflettere su quello che è il collocamento della scuola materna e della scuola dell'infanzia, oltre che del nido che insistono proprio su Colleatterrato e quindi lì sarà possibile un ricollocamento all'interno delle nuove strutture di una parte delle sezioni interessate, ma questo avverrà in divenire con il massimo coinvolgimento anche dell'istituzione scolastica direttamente coinvolta e quindi con la preside Piscella. Secondo lei Colleatterrato quando sarà pronta? Le date indicate dal vice sindaco sono estremamente chiare, in settimana verranno ultimati i lavori di modo che sia pronta già per la riapertura dell'anno scolastico, dopodiché si tratterà di valutare appunto con la dirigente se questo spostamento avverrà già dall'inizio oppure sarà una procedura in itinere.